Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Le segnalazioni continuano ad arrivare, continuano ad arrivare in redazione tramite la nostra pagina Facebook, tramite il nostro indirizzo di posta elettronica, oggi siamo nella zona di Porta Buia perché c'è una cosa che adesso vediamo insieme. Ciao a tutti amici, siamo ad Arezzo via Porta Buia, questo tratto di strada è stato delimitato da alcune catene, un cittadino ci ha chiamato perché proprio questa delimitazione, queste catene hanno fatto cadere diversi cittadini. Il problema è che qui da molti anni ci sono delle catene a via Porta Buia e c'è un pezzo di strada, un pezzo, un'area del demanio. Ora che succede? Che queste catene sono pericolosissime perché fra l'altro c'è sia gli italiani che i turisti, sia gli italiani che i stranieri, siccome qui c'è il posteggio dei Pullman, gli stranieri vengono, passano di qua, siccome da qui si vede il Duomo, quindi passano tutti di qua, e parecchi, sia gli italiani che i stranieri sono caduti. E l'ultima caduta c'è stata nel mese di agosto, quindi si è iscritta al Comune, ma questo è durata molti anni, il Comune non interviene, non interviene perché si palleggiano il problema, si iscrivono fra di loro. Allora, l'ufficio scrive al patrimonio, già vent'anni fa e ancora adesso, mi è arrivata una lettera in cui si dice che non si sa di chi ha messo le catene, si stanno facendo indagini e si tira avanti così. Ora è assurdo, è assurdo pensare che il Comune si giustifici dicendo che queste catene non si sa chi le ha messe e quindi non le puttano. Beh, insomma avete capito, le catene ci sono, però non si sa chi le ha messe lì. Ora c'è da dire questo, che il testo unico che riguarda i Comuni, non solo, ma anche lo statuto del Comune, dice che il Sindaco in quanto pubblico ufficiale deve intervenire per eliminare i pericoli che possono essere per la salute pubblica, però non fanno nulla, questo è il primo caso. Poi c'è l'altro caso, un pezzo di strada che si è preso il Comune, cioè un pezzo di strada che è stato abusivamente recintato. C'è da dire che anni fa il proprietario dell'area adiacente a questo pezzo di strada è stato pure multato perché non ha un titolo per recintare queste catene. Ora, bisogna che il Comune intervenga perché in qualche modo questa situazione deve terminare. Beh, sembra il titolo di un romanzo, il mistero delle catene di Via Portabuia. Una cosa è certa, queste catene non devono stare lì, quindi qualcuno deve prendersi la responsabilità di toglierle di mezzo. La fine della prima parte, restate con noi per la seconda parte di Sportello Reclami. Sportello Reclami, chiocciolateletruria.it, la sportellata di oggi ci porta in un condominio di Portabuia dove ci sono delle catene abbastanza pericolose. Bene amici, seconda parte dedicata a Via Portabuia, questa strada che è delimitata da alcune catene che un cittadino che ci ha chiamato e l'avete sentito nel corso della prima parte ci ha detto che sono molto pericolose. In tanti ci inciampano sopra, anche perché sono davanti all'uscita delle varie attività commerciali, ci sono dei portoni di alcune abitazioni, quindi sono pericolose. Il Comune, una volta per tutte, deve prendere posizione e pensate che questo problema è sbarcato in Consiglio Comunale e c'è stata proprio una interrogazione. L'altro giorno c'è stato il Consiglio Comunale, è stata presentata anche un'interrogazione. L'assessore competente ha risposto dicendo che loro ora fanno indagini e fanno indagini per sapere come stanno le cose, ma le cose le sanno da anni, perché questo si sa, c'è stata sempre una corrispondenza fra di loro. Sanno tutto, solo che si rimbassa. Cioè, sembra, per profasare il Vangelo di Matteo, dice che la mano sinistra non sappia quello che fa la mano destra e si iscrivono fra di loro e il tempo passa, passa, passa. La gente ci casca, perché mi risulta che ci sono cascate molte persone, per cui devono intervenire. Altrimenti, non lo so, ora prepariamo una denuncia alla Procura, sperando che intervenga la Procura, ma io spero che intervenga il Comune, perché non è possibile che possa andare avanti così. La gente continua ad inciampare, a cascare con queste catene, ma se nessuno le toglie, se il Comune non prende una posizione, questo problema come si risolve? Altrimenti che cosa si fa? Bisogna mettersi dei cartelli al pollo e mettersi davanti al Comune a farlo intervenire, perché non è possibile, è pericolosissima. Questa situazione è pericolosissima, quindi noi chiediamo che intervenga per eliminare non solo le catene, ma per riportare allo stato primitivo il pezzo devaniale che è stato abusivamente recintato e se ne è preso quello dell'area decente. quindi, ecco, questo noi chiediamo, non solo io, ma anche tutti questi della zona, perché ci cascano un sacco di gente. Tra l'altro qui gli studenti escono, passano, ora fra poco escono tutti gli studenti, la mattina, il pomeriggio, spesso cascano, ma non sanno a che rivolgersi e lasciano perdere. Fra l'altro è anche pericoloso, perché venendo da via Leone Leoni, qui, nella curva, se un cittadino con le catene casca a terra e quel povero automobilista che se lo trova davanti lo può mettere sotto, è pericoloso, non è possibile aspettare un incidente gravissimo perché il Comune possa intervenire. Si conclude qui questa puntata dedicata al mistero delle catene di via Porta Buia. Speriamo che qualcuno alla fine le rimuova e speriamo di aver contribuito a portare chiarezza su questo problema. Linea a Roberto Francini. E con questo è tutto almeno per oggi, grazie della vostra attenzione. Naturalmente l'invito è sempre quello, continuate a mandarci le vostre segnalazioni, i vostri commenti, le vostre proteste, i vostri reclami. Sportello Reclami è qui per voi, aperto per voi tutti i giorni nella settimana su Teletruria con le repliche sabato e domenica. Naturalmente grazie per le vostre segnalazioni a sportello, reclami, chiocciola, teletruria.it e noi postiamo anche il servizio di oggi perché chi di dovere ne prenda visione. Grazie e continuate a seguirci sempre con Teletruria.